Le lavatrici AEG serie 7000 si prendono cura dei capi utilizzando il vapore a fine ciclo, per ridurre le pieghe e facilitare la stiratura. La tecnologia ProSteam utilizza il vapore per rigenerare i tessuti e distendere le fibre, garantendo sempre risultati eccellenti. Selezionando l'opzione Vapore finale alla fine del ciclo di lavaggio, si possono ridurre le pieghe fino ad oltre il 30%, rendendo la stiratura molto più facile e rispettando le fibre. La tecnologia ProSense imposta automaticamente il programma migliore in base ai tessuti e al carico. Cicli specifici consentono di proteggere i tessuti evitando trattamenti inutili e facendo risparmiare tempo, acqua ed energia. L'opzione Più morbido aiuta l'ammorbidente a raggiungere uniformemente i tessuti. I capi diventano più morbidi e più setosi e mantengono la loro qualità più a lungo nel tempo. Le nuove lavatrici AEG serie 7000 hanno un'ampia gamma di accessori. Il nuovo piedistallo Premium AEG porta la lavatrice a un'altizia ideale per caricare e scaricare con più facilità. È dotato inoltre di un cassetto per conservare i prodotti di lavaggio. Il kit per l'abbinamento in colonna permette di avere maggiore spazio, non deve essere fissato al muro. Il kit per la pulizia contiene tutto il necessario per i capi più delicati e per mantenere la lavatrice perfetta nel tempo. Risultati impeccabili sempre con le lavatrici AEG serie 7000. Il kit per la pulizia contiene tutto il kit per il kit per il kit per il kit.